allora power integrative circuit sono circuiti integrati di potenza ovviamente ci sono diverse gradazioni per il momento noi abbiamo visto i dispositivi discreti in realtà ci sono cose che sono praticamente uguali ai dispositivi discreti sono i moduli discreti in cui si può avere sullo stesso DAI più di un dispositivo di potenza in pratica sono comunque discreti e le altre quattro opzioni che sono indicate qui sono effettivamente opzioni che hanno una densità di integrazione sempre maggiore un caso sono smart power smart switches in questo caso che cosa abbiamo abbiamo integrato su un'unica fetta di silicio un po di transistori per la logica e transistori di potenza sono integrati insieme nello stesso processo tipicamente sono il numero di qualche unità che non sono circuiti complicati c'è un minimo di logica che può essere utile per esempio per dare in ingresso una tensione CMOS da 0 a 5 volt e poi internamente viene trasformata la tensione di pilotaggio del 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 dispositivo di potenza ecco logica molto semplice giusto per semplificare quella che può essere l'interfaccia del mondo digitale con il dispositivo di potenza in poche unità poche decine al massimo di transistori questo è quello che si chiama tipicamente smart power può essere utilizzato per livelli di tensione di correnti elevati ma comunque chiamiamo sempre potenza ovviamente sono elevati ma sono nettamente più bassi dei moduli discreti perché perché di fatto volendo avere sullo stesso DAI sia logica sia potenza bisogna stare attenti ad avere disturbi controllati perché altrimenti le transizioni del dispositivo di potenza potrebbero alterare il funzionamento della logica e stare attenti anche alle temperature che si possono raggiungere il fatto di mettere la logica sullo stesso DAI di silicio della potenza di fatto mi mette dei limiti al livello di corrente e tensioni che posso raggiungere diciamo i numeri su quelli indicati la un centinaio fino al centinaio d'ampere un modulo smart power riesce ad averlo fino a migliaia di volte si riesce a fare più su si va soltanto più discreti ok e gli altri due punti sono livelli di integrazione successivo high voltage integrated circuits sono circuiti integrati normali possono avere centinaia o migliaia di transistori tipicamente hanno poco digitale per lo più analogico un processo che vedremo tra un attimo in dettaglio si chiama bcd gli intervalli di corrente di potenza sono simili a quelli degli smart switch ecco su questo su questa linea dei bcd ci si può muovere anche a bcd high density per la densità di integrazione maggiore che tipicamente porta dietro il requisito avendo densità di integrazione maggiore quindi più vicinanza tra vari componenti tipicamente bisogna abbassare le tensioni per evitare che campi possa raggiungere livelli difficilmente controllabili quindi la high density power management IC usano tipicamente tensioni inferiore al centinaia di volt e lì la progettazione che si fa è una progettazione per la parte analogica e digitale una progettazione più o meno classica tipo quella che potete vedere al corso di micro elettronica analogica insomma il corso prof bruschi allora vediamo un pochino più in dettaglio come sono va sono fatti vari pezzi prima smart power smart switch la cosa è molto semplice guardate vedete questa è la situazione in pratica si usa lo spessore soltanto per i dispositivi verticali e questo mi consente di poter avere tensioni di breakdown anche del 1000 del migliaio di volt perché il modulo giusto con lo spessore delle regioni deriva chiaramente il mosfet è un mosfet classico a diffusione verticale per la logica invece uso mosfet completamente planare questo mosfet laterale d'accordo spesso anche in alcuni processi ho anche più di un solo spessore dell'ossido quindi posso usare l'ossido spesso per il mosfet di potenza e uno spessore dell'ossido più basso per il mosfet di segnale altrimenti le tensioni soglia se ne vanno completamente vedete per come è fatto se il source è vicino a massa e di fatto posso fare vicine a tensioni molto piccole la parte di logica quindi a tensione elevata ci va soltanto il drain che deve avere un'attenzione che varia diciamo dell'ordine del megavolt del kilovolt chiaramente se il drain è a tensione alta questa regione deriva crea l'isolamento tra i vari dispositivi la regione N- è a tensione più alta di tutti quindi tutti i vari mosfet laterali sono in queste UL-P che sono ognuna isolata dall'altro potete immaginare che non vi è una grande integrazione perché questa regione N- è molto poco drogata questo vuol dire che per isolare bene i transistori devo metterli ben distanti l'uno dall'altro quindi è una cosa che può andare bene per bassa densità di integrazione però ecco la cosa tipica che si fa è se io voglio avere un po' di logica per avere una tensione d'ingresso di tipo digitale e trasformarla in una tensione in grado di pilotare un mosfet ecco questa cosa qui riesco a farla in un unico modulo quindi alla fine è un modulo che ha un ingresso che ha una tensione che so da 0 a 5 volt e internamente mi spegne e mi accende un mosfet di potenza con 100 A queste cose si fanno in un modulo smart power per densità di integrazione direttamente più elevate bisogna andare in un processo cosiddetto BCD BCD è una sigla che in realtà ha introdotto ST nel mercato ed è ST Italia in particolare ed è diventato a questo punto un tipo di processo standard quindi qualsiasi foundry adesso ha il suo processo BCD e consente di nuovo l'integrazione di logica elaborazione del segnale e potenza nello stesso chip si chiama BCD perché ci sono i bipolari e i bipolari tradizionalmente servivano per fare i riferimenti di tensione i band gap cosiddetti per far circuiti precisi e analogici insomma in qualche modo i bipolari sono indispensabili c'è la parte CMOS per la logica digitale e c'è la parte DMOS dove D sta per diffused MOS MOSFET diffuso per la parte ad alta tensione che deve bloccare tensioni elevate quindi per la parte più tipicamente di potenza al solito quando avete una tecnologia così che integra tanti componenti c'è sempre lo stesso svantaggio lo svantaggio è sempre uno solo che è un'ottimizzata per nessuno di questi componenti quindi lo svantaggio è sempre lo stesso il vantaggio è che potendo avere la logica la parte di processing del segnale la parte di potenza sullo stesso chip tipicamente l'affidabilità è più alta perché non dovete costruire una scheda con più dispositivi diversi l'integrazione è più alta e è molto più alta la robustezza rispetto all'interferenza elettromagnetica perché avete meno fili meno collegamenti meno induttori in giro di fatto tutto molto molto più piccolo complessivamente i vantaggi sono superiori agli svantaggi perché BCD è stato un processo di enorme successo commerciale sono state fatte tante generazioni diverse a seconda del produttore adesso siamo a generazione 10-12 quindi dagli anni fino agli anni 80 quando è stato introdotto è stato tutto un succedersi di generazioni successive ripeto ogni grande founder ha il suo processo BCD lo chiami BCD o con un nome simile ma di fatto ormai è necessario per applicazioni di tanti tipi ma insomma anche in applicazioni automobilistiche non si tratta di aver correnti e tensioni particolarmente elevate ma c'è un po' di potenza da gestire e si fa utilizzando un processo del genere spesso anche l'alimentatore il chip che fa l'alimentatore del calcolatore di fatto si fa un chip in processo BCD ci si butta tutto dentro la logica per il convertitore di potenza e il dispositivo allora come è fatto il processo BCD questo è un processo super semplice vedete abbiamo bipolari CMOS e diffusi e diffusi vedete in pratica la cosa è simile questo disegno questo è un disegno di un di un Deplian di ST di qualche anno fa ormai in alto ci sono dispositivi singoli in basso sono gli stessi dispositivi integrati ma insomma il processo è esattamente lo stesso guardate la situazione vedete il bipolare di fatto usa per la per il è una cosa importante da notare che usa per il collettore lo strato N- EPI che serve a fare la regione di deriva ok poi per avere tutto sullo stesso lato che è una cosa indispensabile per poi disegnare un circuito complesso che poi altrimenti il routing non riesco a farlo vedete cos'è che si fa si usa questo strato sepolto questo che è in rosa N plus buried layer in italiano uno strato sepolto N più per andare a collegare il collettore dall'alto vedete quindi il collettore dall'alto c'è questo strato giallo in alto che è un sinker quindi è una diffusione molto stretta che va giù in verticale e va a contattare lo strato sepolto questo diciamo è un processo che si fa soltanto per semplificare la situazione e non dover mettere il collettore sotto che quindi la tensione di breakdown è dovuta di nuovo allo spessore dello strato epi ci si perde un po' in resistenza R on però ci si guadagna in versatilità perché alla fine abbiamo poi tutti i contatti su una faccia sola ok questo per il bipolare per il resto dei bipolari non c'è da dire molto la struttura epipolare è quella epipolare che abbiamo visto insieme ok il CMOS è invece un CMOS da utilizzare essenzialmente per la logica quindi lo strato N- epitassiale della regione di deriva viene utilizzato per fare PMOS no vedete questo strato grigio e invece per fare gli N-MOS si deve realizzare una P-WELL che viene fatta praticamente con lo stesso processo che fa la base dei bipolari che contemporaneamente si fa la base dei bipolari e la P-WELL nel caso del D-MOS c'è una cosa diversa da fare c'è da fare questa doppia diffusione che corrisponde al Vertically Diffused MOSFET che abbiamo già visto insieme vedete questa forma qua il D-MOS è esattamente la stessa cosa che abbiamo fatto stavolta la regione nemmeno viene utilizzata come drain come in un MOSFET verticale c'è lo strato sepolto e il sinker per andare a portare il drain sulla faccia superiore di nuovo perché vogliamo tutti i contatti sopra e poi vedete c'è il Body che è una diffusione P e il contatto di Source che è una diffusione più piccola N+, come quello che abbiamo visto in pratica in sostanza detto brevemente per il Bipolare e per il MOSFET doppiamente diffuso la struttura è uguale a quella che abbiamo visto finora con l'unica differenza che il contatto di collettore o di drain viene portato sulla faccia superiore attraverso lo stato sepolto e questo contatto di sinker che va a contattare lo stato sepolto e invece per la parte digitale si usa la regione N- come se fosse un substrato quindi si fa un processo a singola well dove però il substrato N- invece che P vedete alla fine lo strato successivo col merge in pratica è chiaramente uguale ci sono queste regioni che servono a realizzare l'isolamento sono regioni P+, vedete queste sembrano lampadine gialle sotto non so se se faccio così si vede ah si gialle sotto e celesti sopra in realtà queste qui sono regioni P che fanno l'isolamento tra una regione N e l'altra per isolare elettricamente i vari dispositivi ok ecco questo è un processo che è partito è partito negli anni 80 e è diventato enormemente popolare io vi faccio vedere le varie le varie tecnologie come sono cambiate dagli anni 80 in cui è stato introdotto da ST appunto al 2010 in cui abbiamo avuto il processo BCD8 di ST allora guarda questo è giusto per avere un'idea di come va la cronologia sull'asse verticale qui è riportato la lunghezza di canale lunghezza di gate quindi da 4 micron a 0,13 e sull'asse orizzontale ci sono gli anni guardando i processi ST in pratica si parte da un processo a 4 micron 60 volt 12 maschere praticamente derivato da un bipolare ok quindi si prende un processo fatto per i bipolari si modifica aggiungendo spessore l'osteo non particolarmente sottile si fa un processo BCD questo è quello che avviene negli anni 80 BCD2 comincia ad avere anni 90 inizio anni 90 comincia ad avere lunghezze di canale più corte BCD3 un processo Twinwell tre livelli di metal anche le memorie non volate le inserite dentro ST Italia è sempre stata forte nelle memorie non volatili finché non ha smesso di farle e quindi era una tecnologia proprietaria importante parte memorie era essenzialmente adagrate BCD4 5 6 o l'8 018 CMOS con 6 livelli di metal e memoria non volatile praticamente ci fa tutto ok è un processo che può essere adoperato tranquillamente per fare costa può essere adoperato tranquillamente per fare progettazione analogica e viene adoperato per fare progettazione analogica normale dove però a un certo punto ho bisogno di una tensione di 20 volt da bloccare e se ho bisogno di una tensione di 20 volt con un processo 018 non ce la faccio quindi o metto un dispositivo esterno per bloccare 20 volt con la tensione di breakdown maggiore di 20 volt oppure faccio tutto in bcd dove ho il MOSFET a diffusione verticale che ha la tensione di breakdown fino a 100 volt questo è il motivo classico ok ho un dispositivo tutto tranquillo normale da fare una progettazione analogica semplice però a un certo punto ho una tensione alta da sopportare ok lo sapete più o meno la storia di ST come è andata in Italia i prodotti importanti che avevano fatti adagrate erano essenzialmente le memorie non volatili e la parte di potenza bcd quindi tutto smart power che andava col bcd la parte non volatile è stata venduta la prima è andata in una joint venture con intel intel st si chiamava mnemonics poi mnemonics è stata venduta completamente a micron una società americana che è specialista in memorie di RAM e volatili e quindi adesso quella parte lì è fuori di ST tra l'altro adesso addirittura fuori del campus di Agrate ha cercato un posto altrove quindi ad Agrate è rimasta essenzialmente la parte smart power più più recentemente si è introdotto parecchio analogico e memes ma insomma si parecchio analogico e memes è stato introdotto però non volatili che era un punto di forza di questi processi bcd ormai è uscita c'è sempre qualcosa embedded quindi in un processo altro ma insomma molto molto ridotto rispetto a prima la cosa importante è che vedete qui ci sono i rettangoli in grigio chiaro questo è il processo motorola motorola praticamente a ruota introduce un bcd si chiama smart mouse 2 ma insomma è un bcd introdotto da motorola e più o meno segue lo stesso profilo ora motorola cosa è successo motorola aveva diviso motorola faceva le radio 50 anni fa poi ho cominciato a fare comunicazioni ho lavorato molto sempre per i militari militari e telecomunicazioni poi aveva la parte dei circuiti integrati nel fine anni 90 l'ha portata fuori ha fatto una società che si chiama freescale quindi freescale è la divisione semiconduttore di motorola che è andata un po' per conto proprio e poi l'anno scorso un paio di anni fa è stata comprata da nxp quindi lì dentro c'è tutta la parte del processo ora è sparito da motorola di fatto è stata comprata da nxp nxp mantiene il giusto fa fare molto in fonderia nxp è un accordo strategico con una fonderia di taiwan che si chiama tsmc per cui parte delle tecnologie più avanzate viene fatta taiwan da tsmc un fornitore esterno quindi questa qui viene chiamato motorola freescale in realtà è motorola fino a metà anni 90 poi freescale poi tende a uscire il processo vedete 013 è tsmc ormai è tsmc che sta continuando a fare il processo equivalente bcd di freescale umc è un'altra fonderia di taiwan simile a tsmc gf è global fundries hanno anche loro un processo bcd global fundries nasce dalla divisione semiconduttori di amd che viene portato fuori dalla società e diventa un blocco esterno smic è invece una fonderia cinese che è una fonderia per terzi quindi anche loro hanno un processo bcd da vendere ok comunque ciascuno ha un proprio processo l'evoluzione più o meno è simile allora tanto per dare un'occhiata alla parte la parte della timeline della famiglia bcd dst per avere un'idea di dove si va anche qui ci sono due due sottofamiglie diverse che avevo nominate prima high voltage e high density ovviamente le due cose non sono compatibili perché high voltage mi richiede spazio perché ho spessori elevati della regione di deriva e anche distanze significative tra i dispositivi e quindi high voltage significa low density se faccio high density ho distanze tutte molto più limitate e quindi per forza di cose devono andare a tensioni basse quindi tipicamente high density vuol dire minore di 100 volt ben minore vedete qua il blu è la come si chiama roadmap della dei bcd high density vedete con diverse tensioni breakdown 20 45 70 100 sono relativi a diversi spessori della regione deriva per il 6 con processo 0,32 e si va fino a 90 90 nanometri che bcd 10 e per high voltage invece il percorso è differente le tensioni sono nettamente più alte ma chiaramente si va a dimensioni più piccole a dimensioni più elevate lo scaling è meno importante in quel caso quindi ci si è fermati essenzialmente a 0,16 micron tanto per dare un'occhiata a un bcd 130 nanometri di est questa è un'immagine microscopio elettronico la sezione volevo far vedere soltanto questo questo qua è lo strato epitassiale si vede bene questo STI è l'isolamento tra un dispositivo e quella adiescente e e poi non so che altro c'è da aggiungere ma questi questi qui sono i vari livelli di metal ecco più il quinto il quinto vedete è enormemente più grande degli altri perché il quinto è quello che porta le correnti alte metal 5 porta le correnti alte meta da 1 a 4 sono essenzialmente di logica ok questo è lo strato sepolto è più o meno la struttura che abbiamo visto prima non aggiunge molto di la vede allora questo mi interessa invece farvelo vedere perché mi consente di riassumere alcune cose che abbiamo detto insieme dell'uso diverso che si fa dei diversi dispositivi di potenza allora diciamo questo è un grafico con tre dimensioni una è la tensione in verticale c'è la corrente qua in orizzontale e la frequenza di switching in quest'altra direzione allora voi dovreste notare questo tendenzialmente c'è un compromesso un trade off classico nella scelta di dispositivo e quelli che vanno più veloce sono quelli che mi consentono tensioni e correnti minori chiaramente quando parlo di tensione intendo tensione di blocco in una direzione blocco in diretta e correnti intendo correnti invece in conduzione quindi i dispositivi che consentono tensioni e correnti più elevate sono i tiristori le correnti sono più elevate perché i tiristori di fatto sono dispositivi che hanno la resistenza in conduzione più bassa quindi se ho correnti e tensioni elevate non c'è niente a fare devo usare un tiristore il tiristore è lento abbiamo visto si spegne lentamente perché ho due transistori in saturazione da svuotare e si spegne tra l'altro il tiristore invertendo la corrente quindi diciamo ecco massima frequenza tipicamente si usa una frequenza di rete vi avevo detto quindi qui vi è indicato un massimo di 100 Hz di uso il tiristore i GTO sono i tiristori gate turn off più o meno sono molto simili ai tiristori dal punto di vista della corrente e tensione massima ricordate sono fatti da tiristori con tanti rami in parallelo con tante celle in parallelo quella è la cosa principale poi c'è il corto di anodo quindi è asimmetrico il GTO e in aggiunta abbiamo detto che c'è questo catodo rialzato di fatto diciamo il tipo di uso è simile a quello del tiristore è più veloce lo spegnimento per cui posso andare a frequenze un po' più elevate per questo arrivo al Kilohertz d'accordo? in assenza dell'IGBT qui avremmo avuto i bipolari e poi i MOSFET i bipolari ancora tensioni un po' più basse correnti un po' più bassi dei tiristori ma più veloci e i GTO scusate e i MOSFET ancora più veloci ma come correnti e tensioni più piccole quindi questo sarebbe stato lo scenario di una decina anni fa ma 15 anni fa quello che sta succedendo quello che è successo è che poi a un certo punto si sono inseriti nel mercato gli GBT e questo cubo blu degli GBT sta crescendo perché di fatto aumentano le frequenze aumentano le correnti aumentano le tensioni di fatto ha già mangiato tutto il bipolare di fatto il GBT si può usare per tutte le cose per cui si usa il bipolare però va più veloce quindi il bipolare è dentro non lo vedete più e penetra nel dominio dei tiristori di fatto questa è una regione che sta crescendo sta crescendo contemporaneamente effettivamente anche la parte del MOSFET perché questi MOSFET verticali in effetti possono essere messi in parallelo abbondantemente quindi aumentare il livello delle correnti e delle tensioni che riescono a sopportare quindi diciamo il MOSFET sta crescendo il GBT sta esplodendo il bipolare ormai è inutilizzato il tiristore rimane limitato agli usi per 5.000 volt 2.000 ampere quelle cose elevatissime che servono per la distribuzione dell'energia elettrica ok questo è quello che sta succedente adesso un'altra cosa che sta succedendo per limitatamente agli GBT e ai MOSFET è che si comincia a utilizzare materiali nuovi che allargano ulteriormente il dominio di uso ne parliamo tra un attimo ci fermiamo un secondo qui come si fa ora keep